Quattro appartamenti, tre a Sassonia Sud e l'altro in zona porto, utilizzati dalle prostitute per accogliere i clienti e la fanno a luci rosse che resiste anche nel periodo di pandemia, con le professioniste del sesso pronte a soddisfare la libidine di tanti fanesi. Un fenomeno che nonostante le misure restrittive e i pericoli non sembra particolarmente toccato dalla diffusione del virus, se non nelle ore del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Per contrastare lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, i poliziotti di Fano hanno eseguito diversi controlli e appostamenti dal giorno in cui le marche sono tornate in zona gialla, anche fingendosi clienti per verificarne il modus operandi. Gli agenti, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno individuato quattro appartamenti adibiti a luoghi privati di incontri che venivano gestiti singolarmente dalle occupanti. All'interno delle abitazioni sono state identificate quattro donne, tutte straniere, tra cui due di nazionalità cinese altrettante di origine sudamericana, una di 30 anni e le altre sulla cinquantina. Lavoravano in stanze riservate adibite a luoghi per l'esercizio di prestazioni sessuali. Una delle orientali è risultata sprovvista di titolo di soggiorno e quindi è stata sottoposta alla procedura di espulsione dal territorio nazionale, mentre per le altre tre risultati in possesso di permesso di soggiorno sono stati avviati gli approfondimenti del caso attraverso le questure di Pesor e di Ancona, visto che non sono in Italia per i soli motivi familiari. Nel corso dei controlli poi gli agenti hanno anche identificato diversi clienti, quattro di loro sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-covid. Infatti sono stati sorpresi senza mascherina, si tratta per lo più di clienti dai 30 ai 60 anni, fanisi o domiciliati in città, operai, impiegati, liberi professionisti e anche sposati che si recavano in Sassonia, in particolare in pausa pranzo da mezzogiorno alle 14, in barba alla crisi economica e ai rischi legati alla diffusione dei contagi da coronavirus.